Nelle aree della diocese sinistrate dal terremoto sono passati 7 giorni dal sisma di 6.5 Richter e nel corso del nostro viaggio, oltre a segnalare i danni del terremoto, dobbiamo tener conto di un fortissimo vento da sud, un garbino novembrino capace di soffiare anche a 100 km orari. Queste immagini si riferiscono a Montemona, con i pressi del palazzo comunale e in via Stradone, con le abitazioni danneggiate dai terremoti di questi mesi e squadre di vigili del fuoco e di protezione civile provenienti da tutta Italia a monitorare la situazione. Ci spostiamo a valle di qualche chilometro, ecco la diga di Gerosa in territorio di comunanza, sbarrante il corso del fiume Asso. Guardate l'acqua dell'invaso artificiale, che sospinta dal vento crea delle vere e proprie onde che si infrangono sulla più che trentennale diga. Questa è la situazione a Force, già colpita dal terremoto, e a Porchia, frazione di Montalto delle Marche. Difficoltosa la situazione sulle strade provinciali, con rami e detriti che invadono la carreggiata. Ecco come si presenta la strada provinciale Cuprense tra Montalto e Monte di Nove, la strada provinciale Castel di Croce-Rotella e la Valtessino poco dopo Rotella in direzione Grotta Mare. Una situazione è quella della Valtessino pericolosa, soprattutto nel tratto Rotella-Ponte Tesino di Cossignano. Con questo vento si registrano sia di notte che di giorno temperature elevate ben sopra la media del periodo. A comunanza il termometro segnava a mezzogiorno ben 21 gradi. Con il maltempo si aggiungono quindi nuove disagi per le popolazioni, per le forze dell'ordine e per gli operatori di protezione civile nelle zone sinistrate dal terremoto. Grazie.